Forse non alla fine della crisi, ma per la prima volta, dopo otto anni di numeri negative, le imprese artigiane in Sardegna riprendono a crescere, segnando nel terzo trimestre del 2016 un più 27. È quanto risulta da un'indagine dell'Ufficio Studio della Confartigianato di Imprese Sardegna, che ha elaborato i dati in focamere e nuove imprese sull'annata immortalità delle aziende artigiane nell'isola. Numeri significativi, specie se contrapposti, a quelli registrati nei primi due trimestri dell'anno, che avevano fatto segnare rispettivamente meno 429 e meno 59. Positivo anche il bilancio su base provinciale, con un Ristano che registra una crescita di 14 imprese, Nuoro più 11, Sassari più 5. Solo Cagliari è in controtendenza, facendo registrare il segno meno con la scomparsa di tre aziende. Scendendo nel dettaglio, le performance migliori sono quelle delle imprese del settore di servizio alla persona e del benessere. Positivo il trend anche del settore manifatturiero, in particolare l'agroalimentare o le manutenzioni e riparazioni. Vanno male ancora le edilizie a meno 8 imprese e i trasporti a meno 10. Nessun trionfalismo, però constatiamo che dopo 8 anni consecutivi col segno meno, il saldo delle imprese sarde è un tasso positivo, rileva in una nota la Presidente della Confartigianato di Imprese Sardegna, Maria Carmela Folchetti. È un'indicazione molto flebile, ma se la paragoniamo con i dati dei primi due trimestri, significa che il settore è vivo e ha voglia di crescere. Ma questo significa inoltre che molti espulsi, soprattutto da grosse realtà produttive che hanno chiuso, tentano di sopravvivere aprendo una loro attività. È un segno di un sistema produttivo che stenta comunque a ripartire. Grazie a tutti.